Nel 1969 ero a Pontremoli, provincia di Massacarrara, avevo terminato i miei studi in filosofia e facevo il direttore in un collegio, in un convitto per studenti a Pontremoli per mantenermi un po' anche gli studi che volevo continuare alla facoltà di lingue a Parma che è abbastanza vicina a Pontremoli ed ero lì nel 1969, l'ho vissuto lì quindi tra lotte operaie che lì non c'erano, però il contatto con l'Università di Parma mi dava modo di conoscere meglio che cosa avveniva nel paese per esempio quasi subito dopo la strage di Piazza Fontana c'erano le manifestazioni studentesche per il diritto allo studio, per la parità dello studio i primi movimenti che io conoscevo perché prima avevo una visione della società molto parziale ed è stato il contatto con gli studenti e anche con gli operai di Pontremoli per cui io a un certo punto ho lavorato anche oltre a fare dirigere questo convitto ho lavorato anche come metalmeccanico alla Spezia, facevo un po' uno un po' l'altro nel mio luogo di lavoro sono stato accettato subito perché mi sono messo a completa disposizione di chi aveva dei problemi eravamo in tanti allora che laureati, ingegneri, professori che sull'onda anche del movimento che c'era allora dei preti operai dell'abbé Pierre questo prete francese che appunto diceva che bisogna sporcarsi le mani perché tu capisca le cose forse era una cosa eccessiva l'espressione però di fatto sulla mia pelle ho visto che io sono maturato quando ho toccato con mano le cose, lavoravo perché appena sono entrato in fabbrica io ho subito uno shock incredibile perché venivo dalla provincia, venivo allora da Pontremoli e venivo a Milano e la fabbrica era piena di bergamaschi e bresciani parlavano solo questo solo questa lingua che io non capivo assolutamente e quindi anche gli ordini che avevo quando incominciavo per esempio a fare il gruista mi hanno messo subito a fare il gruista cosa che mi spaventava paurosamente mi dava un'ansia perché un lavoro pericoloso perché si trasportavano fasci di tubi con un comando a distanza che io non conoscevo però gli ordini me li dava il capo che me li dava in dialetto me li dava in bergamasco, in bresciano il mio incontro con la CGL è stato di attenzione da sempre nel senso che sono figlio di un minatore di un operaio, sempre iscritto alla CGL però avendo studiato avendo lasciato anche il mio mondo mio padre, io sono sardo lavoravo nel miniere di carbone e quindi ho sentito da bambino un afflato verso la difesa del sindacato e della CGL in particolare perché mio padre li ha scritto alla CGL però poi sono andato a studiare e ho perso questa cosa ho ripreso il contatto diciamo con la classe operaia chiamiamola così quando sono andato a lavorare in fabbrica alla Spezia meno ma soprattutto quando sono venuto a Milano e allora ho fatto l'esperienza che facevano molti intellettuali laureati eccetera di andare a lavorare in fabbrica e lì in fabbrica qui a Milano precisamente a Lambrate in una importante fabbrica di Lambrate ho preso coscienza di che cosa era il sindacato e che cosa è il sindacato le sono diventato subito delegato di fabbrica mi sono sempre interessato del sindacato nel suo senso genuino diciamo non voglio sminuire la politica però diciamo che facevo anche all'interno della fabbrica quello che era il sindacalista si interessava di cose che sapeva e mi sono sempre interessato dall'inizio dei problemi della sicurezza della salute in fabbrica ho sempre fatto questo poi anche in seguito nella mia vita in CGL nella FIOM in particolare perché era metallo meccanico diciamo la coscienza di che cosa è il sindacato l'ho presa lavorando insieme ai sindacalisti che facevano azione sindacale contrattazioni io mi sono interessato soprattutto dei problemi della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nella fabbrica dove io lavoravo c'erano importanti problemi perché era una fabbrica di tubi di precisione quindi c'era il laminatoio quindi la cottura dell'acciaio con tutti i problemi legati al problema del rumore molto importante problemi dell'apparato respiratorio perché i fumi della fornace e poi i problemi della sicurezza in genere contro gli infortuni perché c'erano diversi infortuni caduta di tubi caduta di pancali schiacciamento delle dita delle mani io stesso ne sono stato vittima di questo ho lavorato 12 anni in questa fabbrica mentre continuavo comunque a fare il sindacalista nel territorio sindacalista partecipavo alle riunioni della CGL nel territorio i primi slogan che io ricordo perché mi interessavo soprattutto di salute e sicurezza era appunto che la salute non si vende non si regala la salute mia le manifestazioni per esempio la preparazione dei cartelloni io volevo soprattutto che si parlasse anche del fattore umano non soltanto delle rivendicazioni diciamo salariali ma anche del benessere psicofisico si insisteva molto su questo che non era solo come dire la sicurezza delle tue mani quello che contava ma era che la salvaguardia delle tue mani servivano per la tua vita per la vita di chi ti sta vicino per la vita della tua famiglia dei figli della della moglie o della fidanzata insomma una visione meno come dire meno operaista no ma complessiva che allora c'era era molto forte era molto sentita ecco un'altra cosa che importante che non ho detto è stato proprio questo rapporto con la scienza diciamo che su cui io ero favorito per questi rapporti che avevo al di fuori della fabbrica che hanno consentito un rapporto che poi è diventato anche personale con i medici territoriali della zona che allora si chiamavano SMAL che erano i medici del lavoro del territorio e questi erano non solo presenti ma chiamati a tutte le le assemblee anche di fabbrica che si facevano sull'argomento che ne so io argomenti di formazione che noi abbiamo utilizzato le ore di assemblea per fare formazione che ne so io sui problemi di carattere respiratorio all'interno della fabbrica e allora chiamavamo il medico di fabbrica del territorio e a volte addirittura abbiamo chiamato dei professori universitari all'interno della fabbrica secondo me un'altra conquista anche questa dei lavoratori che sono state le 150 ore a cui ho partecipato che io ho favorito e in cui ho insegnato per tanti anni proprio e soprattutto salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ambiente ed ecologia c'era un po' di conflitto poca attenzione inizialmente ai problemi ambientali esterni rispetto alla fabbrica il contatto invece con il territorio e anche con il movimento ecologista non parlo del partito verde non è questo il tema ha favorito un'attenzione anche da parte dei lavoratori della classe operaia e anche del sindacato dell'attenzione a quello che all'inquinamento che usciva dalla fabbrica quindi il problema dei fumi all'esterno chi abita vicino alla fabbrica risente dell'inquinamento che noi produciamo che noi producevamo attraverso i nostri filtri non filtri attraverso i camini del dell'aminatoio dove si si produceva l'acciaio per i tubi e c'era è sorto a un certo punto un conflitto tra salario e ambiente che è stato molto difficile non so se è risolto in occasione di infortuni infortuni per esempio il reparto veniva fermato prima di tutto da noi responsabili delegati dicendo ci fermiamo e riflettiamo sulle cause di questo e questo era già una forma di lotta rendere consapevoli di che cosa era avvenuto e perché era avvenuto è avvenuto perché la struttura lavorativa l'organizzazione del lavoro era fatta in un certo modo o è avvenuta per incuria non preparazione non attenzione da parte del lavoratore per esempio l'utilizzo dei dei sistemi di protezione individuale dei guanti era consigliata in alcune situazioni molti lavoratori non utilizzavano questi mezzi di protezione individuale e quindi c'era anche la responsabilità del lavoratore molte volte è l'organizzazione del lavoro che non ti consente di produrre in maniera per esempio in una catena di montaggio in maniera veloce e quindi il mezzo di protezione individuale rallenta il lavoro e in quel caso la responsabilità non è del lavoratore ma dell'organizzazione del lavoro oppure quando si chiede che ne so una paratia che protegga da infortuni quando si usano le seghe elettriche poi può avvenire l'infortunio perché a volte è il caso o è l'errore umano però molte volte perché il mezzo non è protetto adeguatamente e questo è responsabilità dell'azienda e questo non è l'azienda